Partiamo col webinar. Ancora una volta buongiorno a tutti, ben arrivati, parliamo di accountability, lo facciamo nella logica di governo aperto, adesso vi racconto un po' di cosa si tratta. Io mi chiamo Gianfranco Andriola, oggi trascorriamo insieme un'oretta e mezza parlando di accountability, parlando di trasparenza, parlando di open data, lo facciamo nell'ambito di un progetto che si chiama OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, in realtà è un progetto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato insieme al Format su un paio di anni fa, è un progetto che come avete modo di leggere su questo slide, nasce nell'ambito del programma operativo nazionale OpenGovernance, capacità istituzionale, è un progetto che quindi come tutti i progetti del OpenGovernance si va concludendo, credo che tutta la tornata del OpenGovernance dovrebbe chiudersi entro luglio, agosto o qualcosa di simile, quindi a tempo di rendicontazione. Il progetto è un progetto ampio, stratificato, riguarda molte attività che tutte hanno al centro il tema del governo aperto, della valorizzazione dei dati pubblici, dell'accountability, della lotta alla corruzione, insomma tutte le tematiche care al governo aperto di cui avremo modo di parlare tra un attimo. Come vi dice, è un progetto ampio, è un progetto che tra le varie linee di attività, che in totale sono quattro, ha previsto anche un momento di scambio, di affiancamento, di confronto con alcune pubbliche amministrazioni. L'idea era quella proprio di lavorare a quattro mani su alcune tematiche proprie del governo aperto con alcune amministrazioni di vari livelli. Al momento abbiamo avuto modo di lavorare nel corso degli ultimi due anni con dieci amministrazioni diverse, sono quelle che vedete in questa slide, quindi parliamo di amministrazioni centrali, regionali, tra cui la Regione Emilia-Romagna e alcune città metropolitane. In particolare con la Regione Emilia-Romagna abbiamo avviato un progetto molto ampio, strutturato, a duraturo, che ha avuto al centro il tema della partecipazione come filo rosso di tutte le iniziative, chiaramente un tema su cui la Regione Emilia-Romagna ha le spalle particolarmente larghe, c'è una grande tradizione in Emilia-Romagna rispetto al tema del civic engagement, della partecipazione pubblica, una legge regionale, un portale che è già avviato, un gruppo di lavoro consolidato, una community di riferimento, insomma tante cose che avrete modo di conoscere più avanti. E nell'ambito del progetto pilota, lavorando a quattro mani come Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica, insieme alla Regione Emilia-Romagna, abbiamo avuto un modo di rimettere mano a quella che è la piattaforma regionale per l'hub della partecipazione, che si chiama la piattaforma partecipazione, abbiamo condiviso il percorso di lancio e di installazione, è basata su un software open source che si chiama Desidim, di cui probabilmente avremo modo di parlare più avanti nei prossimi webinar, giusto per raccontarvi un po' di che cosa si tratta. Nell'ambito di questo progetto abbiamo sempre fatto partire un processo partecipativo, condiviso, con cui la Regione Emilia-Romagna ha avuto modo di coprogettare il piano triannale per la formazione sul tema della partecipazione, che come vi accennavo prima fa riferimento alla legge regionale del 2018, già presente in Regione Emilia-Romagna. Abbiamo avuto modo di portare avanti una serie di iniziative di formazione, webinar, è tutto simile a quelli che stiamo facendo adesso, si sono svolti circa un anno fa l'ultimo webinar della precedente tornata, che era un'introduzione al ciclo del governo aperto, l'ABS è svolto il 4 maggio, chiaramente nella piena logica di condivisione dell'informazione di accesso al patrimonio informativo pubblico, trovate tutto su questa pagina di EventiPA, credo che il link in basso sia attivo, quindi cliccandoci dovreste, se siete interessati a recuperare il lavoro già svolto, in quel caso si trattava di tre webinar ed era, ripeto, una cosa con un taglio molto introduttivo rispetto ai temi del governo aperto. Certamente dal momento, come vi dicevo, la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il progetto pilota svolto insieme alla Regione Emilia-Romagna è stato lungo, strutturato, duraturo, ha avuto molte iniziative connesse e collegate, il racconto di come è andata in maniera più puntuale, con una serie di link che vi aiutano anche a recuperare tutto quello che è stato fatto, lo trovate su questa pagina del nostro portale Italia Open Gov, risponde al sito opengo.gov.it, c'è una sezione dedicata ai progetti pilota e una scheda che racconta l'esperienza della Regione Emilia-Romagna. Qui ci trovate tutto raccontato certamente meno velocemente di come ho fatto io in questo momento, è più puntuale, è più strutturato, arricchito dai link e dai riferimenti per testuali per recuperare tutto quello che serve. Veniamo invece al webinar di oggi. Mi scuso con chi ha già avuto modo di seguire il precedente webinar di questo ciclo, questa prima parte la riprendiamo a beneficio di chi è salito in corsa nel seminario di oggi. Abbiamo immaginato, condiviso la progettazione insieme alla Regione Emilia-Romagna, provando a capire insieme quali fossero i temi legati all'accountability in logica di governo aperto che potevano interessare un po' di più, essere un po' più assonanti rispetto all'esperienza che abbiamo svolto insieme. Quindi abbiamo immaginato tre momenti, tre webinar che si svolgono in maniera più o meno propedeutica l'una all'altra. Il primo webinar si è svolto la scorsa settimana e abbiamo guardato insieme la tracciabilità e il processo decisionale pubblico, quindi come le iniziative di partecipazione possano rafforzare l'accountability nella pubblica amministrazione al momento in cui progetta iniziative pubbliche, le porta avanti, le monitora, fa il punto su quello che è successo. Oggi andiamo a guardare un po' più da vicino a un tema che ci è particolarmente caro come Formats, che è quello dei dati aperti e in particolare il riuso dell'informazione pubblica a supporto della trasparenza come motore di accountability, come strumento di accountability. E la prossima settimana, mercoledì 3 maggio, stesso orario dalle 11.30 alle 13, invece andiamo a guardare l'ultimo tassello di questo trittico sull'accountability che riguarda la comunicazione pubblica e come, ancora una volta, una buona comunicazione supportata da una buona trasparenza possa crescere, rafforzare, rendere più solido l'accountability di una pubblica amministrazione. Ce lo siamo immaginato così. Gli obiettivi didattici che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo buttato giù i programmi di questi webinar sono certamente raccontare l'accountability dandogli un taglio molto operativo, cioè andando a guardare come accountability può essere infrastruttura dell'azione pubblica, può essere un elemento al pari della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, come possa rappresentare un, può essere un elemento distintivo di una pubblica amministrazione di qualità, di politiche pubbliche forti e capaci davvero di incidere. E ugualmente abbiamo immaginato che per ognuno di questi tre appuntamenti potessimo raccontare, a valle di una prima introduzione un po' più teorica, un po' più di descalica, mi auguro poco noiosa, come la regione Emilia Romagna, declinando questi temi, sta portando avanti alcune politiche all'interno dei propri territori. Non ultimo, dal momento che il processo partecipativo, trasformazione di cui vi accennavo un attimo fa, è arrivato nella sua fase conclusiva e quindi nel momento in cui è opportuno illuminare la politica pubblica che ha portato avanti, cioè la formazione sul piano triennale, attraverso la trasparenza dell'accountability, abbiamo pensato che potesse essere utile a promuovere anche nell'ambito del processo partecipativo questo momento di trasparenza di accountability proprio per rafforzare lo stesso processo partecipativo e consolidare il progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Ringrazio Angela e Stefania che vi stanno raccontando, stanno inserendo un po' di link rispetto alle cose che vi sto raccontando. Piccolissima nota tecnica, se siete qui siete passati da questa pagina di Eventi.pa che è la nostra piattaforma Formez per promuovere e permettere a tutti gli utenti di iscriversi a momenti di formazione. Come vi accennavo all'inizio, qui trovate tutti in piena logica di visione, in piena logica di accesso a tutte le informazioni, tutti i materiali sviluppati, trovate tutte le registrazioni dei tre webinar, trovate le slide proiettate da tutti i relatori. Se vi siete già iscritti da questa pagina non dovete fare altro, nel senso che abbiamo immaginato questa pagina come unica per tutti i tre webinar, quindi una volta che siete qui oggi, certamente allo stesso modo vi arriverà la mail per accedere al webinar della prossima settimana esattamente nelle stesse modalità. Sì, per rispondere a Francesca il link al webinar del 3 maggio vi arriva in automatico, esattamente così come vi è arrivato questo di questa settimana. E allo stesso modo ne approfitto anche per dirvi che sempre su questa pagina concluderemo l'attestato di partecipazione. Quindi una volta, la ragione per cui vi chiedevo prima la cortesia di rinominare, eventualmente non l'abbiate già fatto, il vostro account con cui avete fatto accesso a questo momento di formazione su Zoom con un nome che richiami lo stesso nome con cui vi siete iscritti, così ci date modo di sapere chi siete e quindi confermare la vostra presenza a questi webinar. Quindi questa pagina è un po' il centro, tutto quello che sviluppiamo nell'ambito di questi webinar lo ritrovate qui. Detto questo, entriamo un po' più da vicino sul tema della giornata. Come vi dicevo prima, non abbiamo immaginato questi webinar estremamente troppo propedeutici l'uno all'altro, però ci rivolgiamo in parte a delle cose accennate la scorsa settimana, faremo la stessa cosa la settimana prossima. Oggi parliamo di date aperti, lo facciamo a valle del webinar che si è svolto la scorsa settimana, abbiamo parlato più da vicino di accountability, abbiamo parlato di come l'accountability effettivamente possa essere rappresentato come un rapporto tra istituzioni e cittadini, una forma di risposta al processo di delega e quindi oggi andremo a vedere un po' più da vicino come questo rapporto, come questo scambio possa avvenire attraverso alcuni strumenti. La definizione di accountability abbiamo visto varie la scorsa settimana, quella su cui ragionando insieme ci piaceva di più concentrare la nostra attenzione è quella del Dipartimento delle Politiche Europee, non fosse altro che la definizione più vicina all'ambito della pubblica amministrazione, l'abbiamo visto la scorsa settimana e l'idea di localizzare in lingua italiana il termine accountability è un po' complesso, in alcuni casi rendicontabilità, obbligo, capacità di rendicontazione, quello che ci interessa però è andare a vedere di cosa è composto l'accountabilità della pubblica amministrazione. Il Dipartimento delle Politiche Europee ci dice che la trasparenza, cioè la capacità della pubblica amministrazione di condividere le proprie informazioni, la responsività intesa come la capacità di rispondere alle necessità di accesso alle informazioni e la conformità alle leggi ma anche agli standard e lo vedremo meglio più avanti sono tutti elementi su cui basare un buono accountability della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista oggi iniziamo a vedere uno degli strumenti di cui la pubblica amministrazione si può dotare sempre guardando l'accountability nella logica più ampia di governo aperto per rafforzare la propria trasparenza e per garantire un pieno accesso. Quest'immagine, questo schema, questa specie di diagramma di Van orientato sui pilastri del governo aperto l'abbiamo visto e commentato la scorsa settimana. Ad ognuno di questi pilastri, come vedete nella parte più ampia del grafico, corrispondono alcuni strumenti utili alle pubbliche amministrazioni per consolidare le proprie politiche pubbliche in logica di governo aperto. In particolare sulla trasparenza, nella parte alta della slide potete vedere dati che servono a monitorare le politiche pubbliche e in qualche modo introdurre i cittadini la possibilità e il diritto di accesso all'informazione pubblica. La scorsa settimana, sempre a proposito di governo aperto, abbiamo parlato di right to know, cioè del diritto di essere messi a conoscenza dell'informazione maturata della pubblica amministrazione. E come vedete è molto funzionale, questo grafico lo racconta bene, anche alla collaborazione e alla partecipazione, che come vi dicevo è stato uno degli elementi su cui abbiamo fondato, basato e portato avanti il progetto pilastrofotto nella regione Emilia-Romagna. Open data, io faccio un brevissimo racconto di che cosa si tratta, perché è un tema che ormai in Italia se ne parla da anni, ormai è consolidato anche nella normativa, molto rapidamente vediamo di che cosa si tratta, si tratta, ci fermiamo alcuni punti che poi ci servono per raccontare un po' meglio come i dati aperti possono essere strumenti di accountability. Vedo che c'è qualche... Ok, vedo ci sono... Scusate, vedevo che c'erano delle richieste in chat. Molto rapidamente, cosa si parli, cosa parliamo quando parliamo di dati aperti? Qualche anno fa, più di qualche anno fa, questo signore che vedete in questa slide si chiama Timbers Lee, per molti l'inventore del web, l'inventore del protocollo che permette alla rete di funzionare, è un fisico di formazione che è molto appassionato ai temi della condivisione delle informazioni, è un presidente della Web Foundation, uno di quelle organizzazioni internazionali che presidiano il buono sviluppo di internet, si è posto in un TED Talk molto famoso questo quesito, perché la pubblica amministrazione non condivide le informazioni che raccoglie, lo fa in un formato comodo, in maniera tale che tutti lo possano utilizzare, e accresca il valore pubblico, accresca le funzioni del proprio ruolo, proprio condividendo le informazioni in formato aperto. Di qui è nato un movimento piuttosto ampio, che non solo va a guardare i dati della pubblica amministrazione, ma chiede alla pubblica amministrazione di fare un ulteriore sforzo rispetto ai dati che già condivide per regioni di trasparenza, per regioni di accesso, tenendo presente alcune caratteristiche, di cui prima distinzione, non tutti i dati esposti dalla pubblica amministrazione su internet possono essere considerati dati aperti. Ci sono alcune caratteristiche che distinguono i dati aperti dai dati in generale della pubblica amministrazione. Sono tendenzialmente tre, molto semplici da raccontare e anche da implementare nel momento in cui una pubblica amministrazione valorizza il proprio patrimonio informativo pubblico attraverso l'open data. E sono queste qui, cioè per essere considerati dati aperti, i dati della pubblica amministrazione devono innanzitutto essere machine readable, cioè leggibili da un'applicazione informatica. Questo significa che qualunque database va bene, qualunque dato rilasciato in un PDF statico, in un JPEG, in un formato illegibile o molto faticosamente leggibile da un'applicazione informatica, non può essere considerato open data. Seconda regola è la possibilità che questi dati si trovino molto semplicemente, se si arrivi, l'accesso sia facile, si trovino semplicemente con una ricerca sul motore di ricerca, quindi non siano messi in sotto cartelle, l'indicizzazione non sia inibita, ma siano pubblici e di pubblico accesso da parte di chiunque. Terza regola indispensabile per contraddistingue un formato open data da un dato pubblico in generale è la licenza, cioè la possibilità che chiunque prendendo questi dati possa, mantenendo alcune clausole, tipicamente citando la fonte da cui questi dati provengono, possa riutilizzare i dati come meglio crede, anche a fini commerciali. Quindi attraverso l'open data la pubblica amministrazione ha l'opportunità di restituire il patrimonio informativo pubblico nel formato migliore, con le migliori caratteristiche, ai cittadini, alle imprese, ad altre pubbliche amministrazioni, più in generale a chiunque ne abbia bisogno. In sostanza quando parliamo di dati aperti parliamo di questa roba qui, chiaramente tutti i dati esposti dalla pubblica amministrazione in formato aperto non devono essere interessati da vincoli di privacy nei confronti dei soggetti privati, è abbastanza ovvia, però valeva la pena rimarcarla, ugualmente alcuni di questi dati è opportuno che non vadano a ledere eventuali temi di sicurezza o di pubblica sicurezza e pubblica utilità. Però di base qualunque dato che supera queste due condizioni può essere esposto in formato aperto dalla pubblica amministrazione. La definizione è quella che trovate su Wikipedia, quindi è la definizione più condivisa, la cosa più importante, ripeto ancora una volta ed è rimarcata anche dalla normativa e dalla strategia nazionale rispetto al tema dei dati aperti, è che questi dati trovino la loro attività, cioè che una volta la pubblica amministrazione espone queste informazioni sia ad operi anche affinché avvenga del riuso sui dati. Considerate che è interessante questo passaggio, nel senso che la pubblica amministrazione, l'open data attecchisce all'interno della pubblica amministrazione, a valle di una considerazione sul libero accesso all'informazione, non necessariamente pubblica. Quindi da questo punto di vista è interessante vedere come la pubblica amministrazione in qualche maniera fa uno sforzo di contemporaneità, uno sforzo per vivere il proprio tempo e conformare il proprio modo di condividere le informazioni a quello che è l'accesso ai dati pubblici. Considerate che nel momento in cui si è iniziato a parlare di open data, si iniziava a parlare di codice aperto, si iniziava a parlare di internet come possibilità di accesso all'informazione, e quindi la pubblica amministrazione in qualche modo ha rilanciato il proprio ruolo, la propria mission rispetto al modo in cui questa cosa sta evolvendo. Quando si parla di rilancio, almeno per l'Italia, non parliamo soltanto di buoni intenti, ma di codice e di normativa che nel corso del tempo il legislatore ha ritenuto utile che tra le funzioni della pubblica amministrazione ci fosse anche quella di condividere i propri dati in formato aperto, in particolare all'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale ci trovate una definizione di dati aperti molto puntuale, quella a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento, e la possibilità che effettivamente ogni pubblica amministrazione decida di dotarsi degli strumenti per esporre il proprio patrimonio informativo in formato aperto. Non è semplicemente una questione normativa, ma è anche nella strategia e nel modo in cui le pubbliche amministrazioni devono portare avanti il proprio ruolo rispetto a una serie di attività e per tutto quello che fa riferimento, come immagino sappiate, allo sviluppo delle nuove tecnologie. Il quadro strategico di riferimento è delineato anno dopo anno dal piano triennale per l'informatica e nella pubblica amministrazione che dedica un capitolo, in particolare il capitolo 2, ai dati in generale della pubblica amministrazione. Chiaramente è interessante anche il taglio che dà questo documento strategico, nel senso parla di data economy, parla di come i dati in questo momento siano una fonte di valore pubblico e quindi la loro condivisione, il loro accesso, la loro manutenzione, la loro certificazione sia uno dei compiti principali della pubblica amministrazione. E tra l'altro, oltre ad avere una normativa di riferimento e oltre ad avere una strategia chiara rispetto a come la pubblica amministrazione deve valorizzare il proprio patrimonio informativo pubblico attraverso l'open data, c'è anche, chiaramente come in qualunque politica pubblica solida, un ente di riferimento per tutto quello che riguarda l'evoluzione degli standard, l'evoluzione dei metadati, l'evoluzione di tutto quello che comporta la parte più tecnologica della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Nel caso specifico è l'Agenzia per l'Italia digitale, che periodicamente lo ha fatto qualche mese fa, credo due o tre mesi fa, aggiorna le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, definisce gli standard, è il punto di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni italiane rispetto al tema dei dati aperti, è il punto di riferimento per l'Europa rispetto alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al transito dei dati, è quella che partecipa ai tavoli internazionali per la definizione degli standard, insomma l'Agid ha un ruolo di primo primo rispetto a tutto quello che riguarda la divulgazione delle informazioni pubbliche in formato aperto. Detto questo, questo rapido e breve racconto su che cosa sono i dati e qual è il quadro di riferimento, proviamo a guardare rispetto a qualunque dato esposto dalla pubblica amministrazione come le informazioni esposte in questi formati possano accrescere la contabilità della pubblica amministrazione, cioè torniamo un po' più al centro del tema che abbiamo deciso di raccontare nel corso di questi webinar. Considerate che quando parliamo di dati aperti contestualmente, cioè nel momento in cui la pubblica amministrazione espone su internet queste informazioni, possono avvenire delle cose, in alcuni casi molte informazioni della pubblica amministrazione vengono prese e riusate da aziende privati per fare business, come sacro santo che sia, pensate, il primo esempio che mi viene in mente è più banale, pensate a come Google, piuttosto che Movit, piuttosto che altre applicazioni di questo tipo, riusano tutti i dati sul trasporto pubblico per alimentare le loro mappe e quindi per offrire pubblicità o abbonamenti ai loro utenti. È un tipico caso di riuso dell'informazione pubblica a fini commerciali che funziona, che consolida il rapporto tra pubblica amministrazione, l'apporto di collaborazione tra pubblica amministrazione, chi offre servizi e cittadini che ne possono beneficiare. Ugualmente interessante, e se ne parla parecchio, è il modo in cui l'open data in qualche maniera facilita il ruolo della cronaca, il ruolo del racconto pubblico, il ruolo dei giornalisti, nel momento in cui raccontano quello che avviene all'interno della pubblica amministrazione, o quantomeno raccontano l'impatto delle politiche pubbliche, ancora una volta il cosiddetto data journalism, cioè la possibilità di raccontare storie con taglio giornalistico, a partire dalle informazioni, ha beneficiato e continua a beneficiare dalla condivisione dell'informazione pubblica. E infine, cosa che ci riguarda particolarmente oggi, vedremo un po' di esempi, i dati aperti sono uno strumento della stessa pubblica amministrazione per rafforzare l'accountability pubblico e per mettere tutti i soggetti esterni alla pubblica amministrazione nelle condizioni di vedere quello che sta accadendo e di farlo in maniera puntuale anche attraverso i dati pubblici, i dati pubblici esposti in formato aperto. Vi faccio alcuni esempi, così proviamo ad avvicinarci un po' di più alla definizione vera e propria. Immagino sappiate che da anni siamo al quarto, quinto ciclo di sette anni in cui l'Italia può beneficiare dei cosiddetti fondi SIA, i fondi strutturari europei. Qualunque pubblica amministrazione italiana, immagino soprattutto chi di voi lavori in enti pubblici, in qualche mondo ci abbia avuto a che fare. Sono dei finanziamenti che partono a livello europeo, si propagano in tutti i paesi dell'Unione Europea e contribuiscono a rafforzare molte politiche e molte opere infrastrutturali in Italia. Fino a qualche anno fa, fino a circa una decina di anni fa, andare a recuperare in logica di acconti avviti, in logica di accesso, tutte le informazioni sui fondi SIA, sui fondi strutturali, gestite da tutte le singole autorità e gestioni presenti sul territorio italiano, era oggettivamente un'impresa impossibile. Delle volte lo stesso Ministero, lo stesso Dipartimento di Politica e di Coesione, faceva fatica a capire a che punto era la spesa sui fondi strutturali. Una decina di anni fa, anche grazie ai ragionamenti fatti, al movimento sui dati aperti, alla possibilità operativa di avere degli standard, di poter condividere le informazioni, lo stesso Dipartimento di Politica e di Coesione ha deciso di fare una grandissima operazione di trasparenza e di accountability, in questo senso, e pubblicare il portale, che si chiamava e continua a chiamarsi, Open Coesione, ed è il punto di riferimento per tutto quello che riguarda la spesa sui fondi strutturali europea. È un portale che non so se avete mai avuto modo di vedere, ma è assolutamente prezioso, ha vinto qualunque, è un portale che ci invidiano molto a livello europeo, perché è assolutamente un'iniziativa di pregio. Attraverso Open Coesione, tutti, cittadini, imprese, associazioni di categoria, qualunque soggetto esterno, può sapere in maniera puntuale qual è la spesa dei fondi strutturali in Italia. In realtà il portale non si limita a esporre, forse è la parte più interessante, queste informazioni, ma le racconta. Vedete, qui già c'è una prima differenza che si può marcare tra trasparenza e accountability, cioè laddove trasparenza esporre le informazioni, in qualche modo, in logica quasi di adempimento normativo, un po' come prevede il decreto d'entratreno, cioè ho delle informazioni che devo pubblicare perché altrimenti la Corte dei Conti arriva e me la vedo male, però non mi limito a esporre queste informazioni, ma le arricchisco con una serie di informazioni che possano rendere chiunque in grado di comprendere quello che sta succedendo, di comprendere cosa quelle informazioni raccontano. Open Coesione è un perfetto esempio da questo punto di vista perché non solo espone tutti i dati sulla spesa dei fondi strutturali, ma fa un passo ulteriore. Ad esempio, potete trovare sin dall'home page dei percorsi di navigazione su queste informazioni. Potete andare a vedere progetti conclusi, progetti liquidati, progetti in corso, potete vedere ogni singola, su tutto il territorio italiano, come ogni singolo comune gestisce i fondi strutturali. Ad esempio, potete fare un taglio, questo è il comune di Ostuni, è stata la ricerca naturale perché sono di Ostuni, e quindi qui potete vedere come per ogni singolo comune italiano c'è una scheda che racconta, facendo base sui dati esposti anche in formato aperto, come ogni singolo comune negli ultimi anni ha deciso di spendere, ha avuto modo di spendere i soldi arrivati dalla programmazione europea, quali progetti è attivato, con quali soggetti, come stanno andando avanti, se sono conclusi, se si sono conclusi dei tempi. Vedete, è un fortissimo motore di accountability a disposizione di qualunque cittadino che volesse approfondire queste informazioni. Parte ugualmente interessante, a mio avviso, come vi dicevo prima, che OpenCosione non si limita a esporre le informazioni sulle politiche di coesione, ma le racconta, quindi ci trovate una sezione che si chiama Risorse e Strumenti in cui è possibile, sempre attraverso grafici interattivi e elementi che aiutano chiunque a comprendere quello che sta succedendo, una serie di materiali divulgativi che permettono anche a chi approccia il tema per la prima volta di capire quali sono le definizioni di cosa si parla, qual è la differenza tra un fondo erogato e un fondo in via di erogazione, cosa si intende per un progetto concluso, quali sono gli tratti distintivi dei singoli progetti e così via. Altro elemento chiaramente caratteristico e essenziale per un'operazione di accountability di questo tipo fatta dal Dipartimento Politico di Coesione, fatta e portata avanti e la disponibilità per chiunque di accesso alle informazioni pubbliche, quindi ci trovate una ricchissima sezione open data aggiornata con cadenza credo trimestrale se non ricordo male, cioè così come avviene la rendicontazione dei fondi strutturali quasi contemporaneamente open coesione ripubblica quei dati in maniera tale da dare una visione unitaria e sempre aggiornata di come l'Italia sta rispondendo alle politiche di coesione e quindi da questo punto di vista ci trovate dei dati aggiornati, puntuali, molto solidi, molto ben strutturati che raccontano come sta andando la politica di coesione in Italia. Insomma, già così sarebbe un elemento di pregio però open coesione ha deciso di rilanciare nel corso degli anni con una serie di iniziative che nascono intorno ad open coesione, intorno ai dati, intorno all'accesso delle informazioni, una probabilmente delle più interessanti, delle più belle anche perché coinvolgere le scuole quando si coinvolgono le scuole è sempre un po' più emozionante, ve lo dico perché mi è capitato di partecipare direttamente ad alcune delle giornate organizzate da scuola di open coesione che è un progetto parallelo in qualche modo a open coesione sempre portato avanti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo portato avanti a quattro mani con i ragazzi delle scuole parliamo di scuole superiori parliamo degli ultimi anni di scuole superiori e di qui il progetto prevede che alcune classi portino avanti dei progetti di monitoraggio civico sulle opere presenti nella loro città finanziate con soldi pubblici quindi a scuola si impara non solo a dove andare a trovare i dati come scaricare i dati come raccontare i dati attraverso delle infografiche attraverso un racconto come leggere queste informazioni ma soprattutto a mio avviso con la scuola di open coesione le scuole che hanno i ragazzini delle scuole che hanno un modo di partecipare comprendono che l'accesso all'informazione pubblica è un loro diritto è un diritto da esercitare quindi da questo punto di vista open coesione è un grande progetto di divulgazione dell'accountability è un grande progetto di educazione civica a quelle che sono il modo in cui le amministrazioni evolvono il proprio ruolo e quindi i cittadini evolvono i diritti dei cittadini e quindi la capacità dei stessi cittadini di esercitarli altra iniziativa molto interessante legata sia open coesione che a scuola di open coesione è Moniton progetto che nasce dalla crasi tra monitoring e marathon è una maratona di monitoraggio civico fatta sempre a partire dai dati esposti in formato aperto dopo in coesione permette a chiunque singoli o in team di fare dei rapporti di monitoraggio sulle opere finanziate dai fondi strutturali finora sono stati realizzati 1242 report di monitoraggio civico ce ne sono alcuni che sono meravigliosi e chiaramente soprattutto quelli fatti da scuola di open coesione che oltre ad avere una parte di racconto con infografiche di testo molto spesso hanno dei video ci sono dei video veramente splendidi fatti da ragazzetti che si inventano delle cose fantastiche e raccontano come vanno raccontano in maniera molto pratica molto operativa come stanno andando la spesa dei fondi strutturali e le opere finanziate e realizzate vi consiglio di davvero di darci un'occhiata di sfogliare perché ci sono delle cose estremamente interessanti e diventa ancora una volta un modo per fare per i cittadini per fare pressione sulla pubblica amministrazione rispetto a come stanno andando la spesa dei fondi strutturali e quindi grande motore di accontabilità grande motore di senso civico rispetto a come stanno andando la spesa pubblica nei propri territori da questo punto di vista concludo ripartendo da dove eravamo partiti vedete che l'open coesione in qualche modo ha fatto proprio il paradigma del governo aperto lo ha arricchito con iniziative legate al progetto centrale quindi a open coesione dove è previsto c'è un rilancio sulla trasparenza con il portale con i dati ci sono momenti di partecipazione con la scuola di open coesione con Moniton ci sono momenti di forte collaborazione istituzionale tra altre pubbliche amministrazioni e chiaramente tutte le autorità di gestione che alimentano il portale peraltro su questo ne parlavamo la scorsa settimana sempre nel webinar di accontabilità con la regione Emilia Romagna nell'accordo di parternariato che come sapete è il documento che fa un po' da quadro rispetto a tutto il ciclo di programmazione di fondi strutturali nell'ultimo accordo di parternariato cioè quello sulla prossima cicla di programmazione open coesione è un po' il centro il punto di convergenza di tutti i dati sviluppati sulla spesa pubblica sviluppati nell'ambito delle politiche di coesione quindi ha anche una sua centralità rispetto al modo in cui l'Italia decide di spendere questi soldi e il modo in cui le varie pubbliche amministrazioni non solo convolgono i parternariati decidono di portare avanti definire le politiche pubbliche ma anche il modo in cui le implementano e il modo in cui spendono i soldi proprio per questa ragione cioè proprio perché da parte del governo italiano e di un dipartimento centrale come il dipartimento politico di coesione c'è una forte esperienza da questo punto di vista e qui passiamo a un'altra parte di questo seminario ci si aspettava ci si sarebbe aspettato che su un'altra politica molto ricca molto incisiva e molto centrale rispetto al modo in cui l'Italia si trova a spendere soldi pubblici di quei prossimi anni cioè il PNRR ci fosse qualcosa di simile cioè nel senso a valle di una grande esperienza di una delle professionalità già presenti nella pubblica amministrazione e soprattutto di una logica di un fare molto coerente con i temi di cui parliamo oggi quindi col paradigma del governo aperto con il tema dell'accountability ci sarebbe aspettati che sul piano nazionale di ripresa e resilienza ci fosse un'operazione di trasparenza molto simile cioè come tutti le pubbliche amministrazioni come tutti i soggetti coinvolti ed è una quantità enorme i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano del PNRR trovassero un proprio punto di convergenza rispetto a un portale che raccontasse come stanno andando le cose in realtà il portale è arrivato di lì a un po' si chiama Italia Domani ed è il portale il punto di riferimento per il PNRR ci trovate il racconto di tutto quello che sta succedendo però fino a un po' di tempo fa era impossibile trovare in maniera puntuale i dati in formato aperto su tutta la spesa considerate che proprio per l'assenza e proprio per l'aspettativa che in qualche modo c'era sul PNRR da parte di chi si occupa di trasparenza di accontabilità di dati pubblici ci si sarebbe aspettati di fronte a una spesa così significativa sono nate una serie di richieste cioè un movimento d'opinione che ha chiesto formalmente anche con delle richieste di accesso a FOIA anche qui ne parlavamo la scorsa settimana il Freedom of Information Act l'accesso civico generalizzato c'è la possibilità che chiunque chieda alla pubblica amministrazione i dati le informazioni pubbliche e quindi ce ne sono stati vari da quando è partito il PNRR e finora queste richieste sono più o meno andate a vuoto la cosa interessante è che intorno cioè nonostante non ci sia stata sin da subito una presenza rispetto all'informazione pubblica coerente col paradigma dei dati aperti è molto aggiornata e molto puntuale come invece avviene sulle politiche di coesione sul PNRR altri soggetti non pubblici hanno ritenuto utile giusto anche coerente rispetto alla propria mission di andare a illuminare con questa metodologia le attività sul piano nazionale di ripresa e resilienza sto parlando di OpenPolice associazione che porta avanti iniziative estremamente interessanti sulla trasparenza e sulla canto obiettiva della pubblica amministrazione vi rimando al loro sito perché a cadenza mensile fanno uscire dei report veramente molto molto interessanti ultimamente al di là del PNRR c'è stato uno sulla povertà educativa che davvero vi consiglio di leggere perché sono veramente molto molto bravi sia a raccontare che a trovare le tematiche utili su cui portare avanti un discorso più ampio è davvero un ottimo modo per restare informati e quindi sul PNRR hanno pensato di far partire una piattaforma che si chiama appunto OpenPNRR andando a prendere i dati qua e là rimontandoli adesso vi racconto meglio come e portando avanti questo portale che in realtà racconta fa un po' quello che fa OpenCosione per i fondi strutturali lo fa sul PNRR vedete la cosa interessante è che anche qui vengo un po' alla cronaca degli ultimi giorni vedete qui potete andare a vedere investimento per investimento e riforma per riforma fra l'altro investimenti e riforme qui hanno un'accezione molto legata al PNRR quindi non mi dilungo però vi consiglio di andare a guardare il sito è possibile vedere qual è il delta tra quello che si sarebbe dovuto raggiungere e quello che invece abbiamo raggiunto finora come spesa italiana ed è interessante ripeto anche per leggere la cronaca che è il dibattito politico degli ultimi giorni interessante anche qui che potete andare a fare delle letture delle letture del PNRR o quantomeno dei soldi spesi finora sul PNRR sia per tematica che per territorio quindi il portale vi dà la possibilità di navigare nella maniera che vi è più congeniale le informazioni puntuali sui dati e ci trovate le varie misure ci trovate ad esempio questo anche per soggetto per esempio questa è la pubblica amministrazione e potete andare a vedere quali sono stati i progetti a che punto siamo finora cosa manca per raggiungere la milestone di questo periodo quali sono stati gli stati di avanzamento e potete fare la stessa operazione per tutti i soggetti coinvolti e per tutte le 33 2 mi ricordo male misure previste dal PNRR quindi è davvero un portale molto esostivo probabilmente anche stimolati dalla necessità che queste informazioni trovassero nella loro uscita pubblica Open Cohesione ha deciso di portare avanti queste iniziative e di farle in una maniera molto singolare proprio perché c'era un'assenza di dati in formato aperto come invece abbiamo visto prima su Open Cohesione di fatto in gergo si dice Open Cohesione ha fatto Open scusatemi Open Police ha fatto scraping sui dati rilasciati da Italia Domani e più in generale dalle altre pubbliche amministrazioni sul PNRR Scrapping è una tecnica più o meno informatica che consente di derivare dati da dei formati che non sono particolarmente comodi delle serie elaborati quindi dai PDF dalle pagine web e più in generale da qualunque strumento Scrapping in inglese significa proprio grattare via tutto scrape è tipo avete presente quando si fa il ghiaccio sul parabrezza della macchina quando con lo scalpellino si toglie è esattamente grattare via le informazioni affinché queste informazioni possano essere riprese convertite in formati comodi da elaborare tipo un database tipo un database in Excel piuttosto che un qualunque altro tipo di database e poi quel database alimenta il sito che vi ho fatto vedere prima quindi è un'operazione molto complessa e la complessità è dovuta all'assenza nativa di informazioni in formato aperto fortunatamente di qui a un po' di tempo il MEF ha accolto le necessità cioè ha compreso quanto potesse essere utile esporre dati in formato aperto sul PNRR e finalmente vi riprendo questa pagina in realtà perché il Fatto Quotidiano è stato l'unico giornale nazionale a riportare questa notizia che invece secondo me è studente centrale finalmente sono arrivati i dati ma parliamo della scorsa settimana il 19 di aprile e quindi il MEF ha pubblicato un'enorme quantità di DB che racconta in maniera portuale la spesa e lo stato di avanzamento del PNRR francamente vi so dire poco su questi dati perché è una marea di roba ho letto qualcosa in giro qualcuno ha iniziato a guardarli però insomma è davvero molto materiale quindi non si capisce ancora benissimo che cosa ci sia dentro però è un primo momento di rafforzamento della trasparenza e dell'accountability su una spesa così rilevante come quella sul PNRR e chiaramente trovate tutto online sul portale Italia Domani quindi tutti i dati di cui vi sto parlando li trovate a questo link e c'è davvero una marea di roba sono dei database molto molto ricchi ultimo pezzo della chiacchierata di oggi cerco di andare molto rapidamente quando parliamo di come dicevo prima di informazioni esposte in formato aperto di accesso ai dati della pubblica amministrazione è indispensabile andare a guardare agli standard cioè andare a guardare alla possibilità che la pubblica amministrazione adotti un formato che è già condiviso all'internazionale questa cosa semplifica il lavoro di tutti quindi da questo punto di vista può essere utile iniziare a dividere l'idea di contenitore da quello di contenuto nel momento in cui parliamo di dati di dati pubblici aperti mi aiuto con un esempio se voi andate su Amazon in questo momento trovate se non ricordo male ci ho dato un'occhiata ieri sera 25-26 diverse edizioni di Moby Dick di Melville le edizioni sono tutte diverse e al netto della traduzione il libro è sempre lo stesso quindi il contenuto è sempre uguale il contenitore cambia a seconda dell'edizione ugualmente ci trovate non solo le edizioni ma ci trovate anche nella maggior parte dei casi associati a una singola edizione di una qualunque casa editrice ci trovate il file la possibilità di accedere in ebook e in molti casi ci trovate anche l'audiobook cioè la possibilità di ascoltare il libro raccontato vede lo stesso contenuto che a seconda dell'edizione e a seconda delle modalità in cui viene fruito cambia il formato contenuto resta lo stesso il formato evolve anche i dati che raccontano che parlano i metadati cioè i dati utili a descrivere queste copie cambiano in parte a seconda delle edizioni il titolo dell'autore resta lo stesso il traduttore può cambiare a seconda dell'edizione questa è l'edizione ad Elfi con la pregevole traduzione di Cesare Pavese però può cambiare a seconda dell'edizione su cui lo vedete insomma il racconto cioè quei dati sintetici che raccontano l'opera cambiano a seconda di come viene esposto e quindi del formato da questo rispetto a quindi vedete il contenuto è sempre lo stesso i metadati e il formato cambiano a seconda dell'edizione con i dati della pubblica amministrazione per tutto quello che riguarda la qualità dei formati abbiamo una scala solida consolidata che diciamo sono più di dieci anni che funziona e funziona abbastanza bene e la scala cinque stelle timberslee che fa una distinzione tra le diverse tipologie di formato parte dai primi due formati che non possono essere considerati open data e va a scalare fino al formato tecnologicamente più pregevole che il link open data per tutto quello che riguarda invece la racconto dei dati a partire dai metadati è possibile andare sul dati.gov.it il portale nazionale dei dati aperti e guardare il profilo di metadazione standard di KTPT che dice come tutti i dati della pubblica amministrazione dovrebbero essere raccontati nel parallelo con il libro di Melville che abbiamo visto prima e la scheda libro cioè tutti quei metadati utili a descrivere un dataset mentre invece quello su cui ancora non c'è un vero e proprio accordo perché giustamente ogni pubblica amministrazione lo declina in maniera molto singola è il modo in cui vengono composti e tracciati i record cioè lo stesso bilancio comunale di un comune piuttosto che di un altro se lo andate a guardare cioè potrebbe avere metadati raccontati attraverso il profilo di metadatazione potrebbe avere il formato coerente con il principio dei dati aperti ma all'interno trovare delle righe e delle colonne completamente diverse l'una dall'altro è un problema è un problema perché questa cosa rende molto difficile fare confronti tra realtà diverse e può essere steso a qualunque iniziativa della pubblica amministrazione da questo punto di vista è un limite all'accountabilità è un limite che in qualche modo stanno cercando di superare questo limite attraverso una standardizzazione delle informazioni sull'accountability partiamo da questa per esempio una delle cose più classiche una delle prime che vi venga in mente al momento in cui si parla di trasparenza applicata all'attività della pubblica amministrazione il decreto 33 e quindi la sezione amministrazione trasparente che trovate su tutti i siti di tutte le pubbliche amministrazioni vedete quello è un grandissimo tentativo riuscito di standardizzazione dell'informazione sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni questo menu che vedete qui al lato è uguale dovrebbe essere uguale se non lo è è un problema per qualunque sezione di amministrazione trasparente di qualunque antropubblico italiano quindi capite tutte le informazioni a livello nazionale sono standardizzate secondo questa sequenza informativa ed è prezioso perché permette di fare confronti permette di aggregare e confrontare soggetti diversi un tentativo di standardizzazione rispetto all'accountability delle opere pubbliche è stato fatto e continua ad essere portato avanti da un po' di tempo dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal dipartimento della programmazione e coordinamento della politica economica il Dipe attraverso l'iniziativa OpenCoop chi di voi ha lavorato con fondi strutturali o con o meno con qualunque finanziamento pubblico sa che ad ogni appunto finanziamento corrisponde un CUP cioè un codice unico di progetto e intorno a OpenCoop intorno a OpenCoop intorno alla disponibilità dell'accesso di CUP è nata l'iniziativa OpenCoop che permette a chiunque di andare a guardare a scaricare e analizzare quello che sta succedendo sulle fonti di finanziamento pubbliche attraverso il codice unico progetto che è un po' il codice fiscale di ogni singolo progetto e quindi avere un'anagrafe unica di tutto lo speso di quello che sta succedendo sul sito OpenCoop che trovate all'indirizzo opencoop.gov.it potete chiaramente scaricare tutti i dati in formato aperto di tutti i progetti che hanno un CUP navigare per localizzazione geografica per soggetto per classificazione tematica ci sono delle schede realizzate con infografiche molto simili a quelle che vi sto mostrando un po' assonanti a quelle che abbiamo visto prima su OpenCoop e vedete anche qui è un grande motore di accountability un grande momento di trasparenza perché permette più o meno a chiunque di sapere come sta andando in maniera molto facile molto leggibile e si presta molto ad essere comunicata nella maniera migliore su OpenCoop chiaramente ci trovate anche la sezione OpenData che espone in formato aperto tutte le informazioni che vengono raccontate nel sito altra iniziativa estremamente preziosa su cui credo che la pubblica amministrazione dovrebbe fare qualunque pubblica amministrazione dovrebbe iniziare a fare una riflessione perché a mio avviso se l'intenzione del legislatore è più o meno quella che si lascia intuire diventerà sempre più centrale anche per la normativa italiana Open Contracting Partnership di che cosa si tratta? Avete presente i contratti della pubblica amministrazione? bando cioè bando risposta al bando selezione una società vince un appalto pubblico e quel contratto risponde a un testo scritto con una serie di informazioni più o meno tutte simili tra di loro da questo punto di vista la riflessione che hanno fatto le persone che portano avanti questa iniziativa è perché non utilizzare dei metadati standard cioè uguali in tutto il mondo per alcuni delle componenti che definiscono un contratto pubblico quindi Open Contracting Standard non è altro che la possibilità di associare un DB con dei metadati standard ripeto uguali in tutto il mondo in qualunque contratto della pubblica amministrazione stipulato da qualunque pubblica amministrazione affinché ci possa essere un confronto e affinché sia possibile fare delle analisi avete presente tipo quando si dice un chilometro di metropolitana a Roma costa 10 e in qualunque altro posto del mondo costa la metà costa un terzo quelle analisi sono fatte molto a spanne sono analisi che è molto difficile andare a capire se effettivamente queste cose paradossalmente se tutti i contratti della pubblica amministrazione avessero una metadatazione conforme allo standard internazionale questa informazione sarebbe possibile derivarla in maniera estremamente più semplice facendo un po' di filtri su un grande database l'open contracting è un'opportunità enorme di trasparenza di accontabilità per le pubbliche amministrazioni e da questo punto di vista certamente l'ANAC di cui abbiamo parlato a lungo la scorsa settimana l'autorità nazionale anticorruzione come dire ha iniziato a capire che effettivamente anche per l'Italia potrebbe essere veramente molto utile iniziare a utilizzare un sistema di questo tipo per metadatare i contratti pubblici e quindi portare trasparenza portare accontabilità portare tracciabilità rispetto al modo in cui la pubblica amministrazione spende i propri soldi qui è nata una banca dati dedicata all'open contracting la trovate chiaramente sul sito dell'ANAC risponde diciamo è un sottodominio del portale ANAC dedicato ai dati aperti risponde a questo sito che vedete qui in basso e ci potete trovare tutti i dati esposti in formato aperto metadatati in maniera coerente con questo standard ve lo dico ve ne accennavo pensavo potesse essere utile parlarne insieme un po' perché è un'iniziativa estremamente pregevole spiega veramente molto bene com'è che i dati la metadatazione e certi tipi di accorgimenti possano rafforzare la trasparenza della pubblica amministrazione e un po' perché se l'ANAC ha iniziato a guardarlo è molto probabile che di qui un po' per inizialmente per i progetti sopra una certa soglia l'ANAC chiede ad alcune pubbliche amministrazioni magari parta da quelle centrali di utilizzare questo standard e poi nel corso del tempo molto probabilmente vedremo se scommettiamo che di qui a dieci anni ci saranno delle direttive dell'ANAC molto puntuali per tutte le pubbliche amministrazioni per metadatare i propri contratti in questo modo da un punto di vista tecnico è molto facile cioè una volta fatto il primo contratto metadatato in maniera coerente con l'open contracting gli altri vengono più o meno molto facili perché c'è una parte molto consistente di anagrafiche e poi per il resto è tutto un adattamento però può essere un'iniziativa veramente interessante e certamente un'iniziativa molto pregevole di accountability da questo punto di vista e concludo è interessante prima di passare la parola a Piera è interessante vedere come gli standard in qualche maniera sono i cavi che tengono l'accountability tengono in piedi l'accountability della pubblica amministrazione quanti più standard abbiamo da questo punto di vista tanto è più solida tanto più è condivisa tanto più l'accesso è aperto a chiunque rispetto alle informazioni delle pubbliche amministrazioni e soprattutto alla loro lettura e al loro riuso detto questo credo di avervi raccontato più o meno tutto non mi pare di vedere che ci sono state domande se non già quelle a cui abbiamo risposto prima quindi io interrompo la mia condivisione chiedo a Piera Magnatti della regione media romagna di aprire la sua webcam e il suo microfono lancio le tue slide Piera dammi solo un istante grazie grazie per il supporto tecnologico ok dovreste vederle Piera ci sei? io mi senti? sì ti sento ti sento bene 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 sì ci sono vedo le slide grazie per il supporto tecnologico entriamo direttamente nel caso concreto che coinvolge il tema e la regione emilia romagna e quindi il progetto mille esperti quando prima Gianfranco hai fatto quell'accenno all'impegno del MEF mi è venuta in mente una cosa un paio di anni fa il ministro Franco è un'audizione congiunta con camera e senato aveva detto una cosa per noi molto importante ovvero che i progetti PNRR dovrebbero devono lui aveva detto dovrebbero avrebbero dovuto essere caratterizzati da tre criteri la realizzabilità ovviamente nei tempi declinati dal piano la monitorabilità rispetto al metodo che conoscete insomma che è un metodo un po' diverso dai fondi strutturali che appunto mette in primo piano milestone e target e accountability la regione ha preso seriamente questa questa indicazione e diciamo l'obiettivo del mio intervento oggi è mostrarvi come la regione Emilia Romagna sta declinando questo concetto di accountability rispetto a un progetto che è appunto il progetto mille esperti la slide successiva vi illustra brevemente di che cosa tratta questo progetto che è un progetto noto abbastanza noto in Italia e che ha una caratteristica molto particolare è un progetto che ha una matrice unica è un progetto promosso dal dipartimento di funzione pubblica che prevede che prevede appunto di creare una task force di mille esperti che ha il compito di aiutare gli enti locali in un'operazione di semplificazione velocizzazione delle procedure sostanzialmente vi dicevo ha una caratteristica particolare perché ha questa matrice uniforme a livello nazionale ma la sua declinazione è stata poi in qualche modo assunta da ogni singola regione e provincia autonoma in modo appunto autonomo ovvero ogni regione e provincia autonoma per avere l'assegnazione delle risorse ha definito un piano territoriale identificando la propria modalità di attuazione del progetto stesso e quindi quali quali processi coinvolgere come utilizzare i propri esperti quali quali tappe sostanzialmente realizzare all'interno di questo percorso triennale che funzione pubblica ha immaginato chiaramente il processo il progetto il successo del progetto come dice la slide sarà valutato rispetto all'obiettivo del progetto stesso che è quello appunto di migliorare i tempi delle autorizzazioni e ridurre l'arretrato la regione Emilia-Romagna ha però inteso e possiamo passare alla slide successiva dare una connotazione che includesse nel corso d'opera appunto nel corso dei tre anni una accountability che non si limitasse appunto alla condivisione del raggiungimento dei risultati ma che fosse una modalità per tracciare quello che la regione ha fatto e sta facendo all'interno del progetto e condividere i passi più rilevanti chiaramente con i cittadini della propria regione quindi non solo con gli enti che sono direttamente coinvolti ma anche con i cittadini della propria regione quello che vedete è un esempio che vi dice come appunto l'approccio della regione Emilia-Romagna sia un approccio abbastanza complesso e articolato al progetto la regione Emilia-Romagna ha inteso ha inteso in qualche modo attuare lo stesso assegnando i 62 la gran parte dei 62 esperti ad essa assegnati dal Dipartimento di Funzione Pubblica agli enti territoriali ovvero come potete vedere esemplificato da questa slide ogni provincia ha un gruppo di esperti composto da diverse professionalità che vivono sul territorio ovvero passano il loro tempo tendenzialmente quattro giorni la settimana quindi un'iniziativa abbastanza intensiva rispetto ad altre regioni che hanno scelto approcci meno intensi rispetto a quello che la regione Emilia-Romagna appunto ha definito e il loro compito è quello appunto di andare negli enti territoriali siano essi comuni o unione di comune nel caso dell'Emilia-Romagna sono molto importanti per aiutare questi enti appunto in questa operazione di velocizzazione semplificazione dei processi quindi la caratteristica le caratteristiche diciamo dell'approccio emiliano-romagnolo per semplificare sono tre una territorializzazione molto spinta un approccio digitale anch'esso molto articolato noi rileviamo i tempi attraverso una webform che è stata definita a livello centrale sono gli enti che immettono i propri dati all'interno di questa webform che poi noi ovviamente raccogliamo a livello centrale e come vi dicevo prima l'idea di una accountability che non si colloca alla fine dell'esercizio ma che accompagna l'esercizio stesso per diverse ragioni che adesso vedremo la slide successiva vi sintetizza molto molto brevemente qual è il percorso le tappe che la regione ha immaginato allora nel primo semestre del 2022 abbiamo fatto quello che il dipartimento chiama appunto la rilevazione della baseline ovvero il punto di partenza che è anche il parametro su cui ogni regione misurerà i propri successi o i successi alla fine dell'esercizio quindi per ognuno dei 17 processi identificati nel nostro piano territoriale sono stati rilevati i dati in tutti gli enti emiliano romagnoli il tasso di partecipazione è stato molto alto ovvero quasi tutti gli enti ci avviciniamo al 100% quasi tutti gli enti hanno risposto hanno dato i loro hanno caricato su questa piattaforma informatica i propri dati che riguardano appunto tempi e arretrati sui 17 processi questa rilevazione come vi ho scritto si ripete ogni semestre per appunto verificare come il core del progetto che è quello di aiutare gli enti ad essere sempre più performanti effettivamente si riverbera sulle grandezze che il progetto considera quindi tempi da un lato e arretrati dall'altro a partire dal secondo semestre 2022 gli esperti hanno iniziato a aiutare gli enti a capire quali sono i punti di debolezza soprattutto su cui agire per arrivare all'obiettivo del progetto questo è stato fatto attraverso una metodologia originale che abbiamo denominato PNRR Check Canvas io in realtà oggi non entrerò nel dettaglio delle scelte metodologiche mi interessa farvi capire come dietro ogni scelta vi sia poi un riverbero della stessa in termini di comunicazione informazione e accountability appunto sulla base di questo check poi gli esperti insieme agli enti definiscono i cosiddetti piani di miglioramento che sono poi la soluzione operativa che deve essere implementata per arrivare a dei risultati diciamo che collimano con gli obiettivi assunti nel piano territoriale la slide successiva da cui transitiamo rapidamente per andare a quella ancora dopo vi dice che lo strumento che fino ad oggi è stato principalmente utilizzato è il sito della regione Emilia-Romagna in particolare il sito dedicato al piano della regione Emilia-Romagna siamo soliti dire che è un sito con tre anime una parte dedicata al monitoraggio che comprende delle dashboard interattive che nell'emore di quello che diceva Gianfranco prima ovvero diciamo un tempo non breve in cui i dati rispetto ai progetti ottenuti dai vari territori non erano diciamo facilmente disponibili la regione Emilia-Romagna ha dedicato una parte di questo sito per far vedere come le risorse del PNRR si stanno in qualche modo attuando a livello territoriale quello che interessa a noi oggi è soprattutto la seconda parte quella di supporto alle pubbliche amministrazioni locali e qui l'obiettivo è quello di raccogliere i dati riferiti proprio al progetto che vi ho narrato un minuto fa il terzo è una parte molto classica è una parte sui bandi gli avvisi che raccoglie di fatto le informazioni che sono in questo caso Italia Domani ampiamente diffuse da quel sito e da altri siti vi dicevo il focus la slide successiva vi mostra il focus sul progetto mille esperti del sito della regione Emilia Romagna abbiamo chiamato l'output del nostro lavoro per arrivare agli obiettivi del piano il kit di miglioramento il kit di miglioramento è l'insieme degli strumenti a disposizione degli esperti e degli enti per arrivare a questi obiettivi ed è anche l'insieme degli strumenti che vengono tracciati e verranno tracciati nel corso dell'attuazione del progetto il primo è la baseline quindi i dati che vi dicevo che abbiamo rilevato alla fine del primo semestre 22 sui 17 procedimenti per tutti gli enti Emiliano Romagnoli il secondo strumento è la rappresentazione dei flowchart da grammi di flusso dei 17 processi in modo tale da rappresentare all'interno dei processi le criticità più evidenti e su queste agire e il terzo strumento è appunto il PNRR check canvas che è lo strumento diagnostico che abbiamo scelto di utilizzare per diverse ragioni che vediamo fra un momento qui vi ho riportato molto in maniera molto sintetica quello che già il sito contiene la baseline è già diciamo informazione definita e compiuta l'abbiamo rappresentata attraverso delle dashboard anche questa sul sito PNRR della regione qui trovate l'indirizzo di riferimento con varie possibilità di elaborazione di aggregazione di informazioni di set territoriali e quant'altro il secondo passaggio su cui stiamo lavorando e che sarà online tra poco allora vedete nella prossima slide e anche quella successiva questa è la baseline scusa riguarda appunto i diagrammi di flusso ne abbiamo elaborati appunto 17 ognuno per ogni un flow chart per ogni processo qui abbiamo un esempio del certificato di destinazione urbanistica con l'evidenziazione delle criticità al momento rilevate quello che volevo dire è questo allora l'esempio che vi sto portando ora è un esempio ovviamente medio regionale in realtà il lavoro dei nostri esperti è quello di elaborare un diagramma di flusso per ogni processo per ogni ente non non è questo ovviamente non è possibile rappresentarlo sarebbe 17 per 380 quindi sarebbe una cosa un po' complicata da rappresentare quello che ci interessa possa mostrare è come attraverso determinati interventi immagino soprattutto legati al tema della digitalizzazione dei processi i tempi soprattutto la parte tempi possa essere compressa e questo è diciamo la rappresentazione che ci sarà sul sul sito internet darà una testimonianza di come un appunto un intervento di un certo tipo su alcuni nodi che sono i nodi più comuni all'interno degli enti emiliano-romagnoli possa dare dei risultati in termini di compressione dei tempi il terzo passaggio slide successiva è quello che vi dicevo che è anche il più originale di questo esercizio che stiamo compiendo appunto sul progetto mille esperti che è appunto l'uso di questo strumento diagnostico per verificare quali sono le maggiori criticità dentro ogni ente e criticità ovviamente che impattino sui processi autorizzativi lo vediamo fra un attimo la rappresentazione grafica la scelta di questa rappresentazione grafica è molto collegata al tema dell'accountability perché perché lo strumento consente quello che abbiamo sintetizzato alla fine di questa slide è analizzare velocemente lo stato di ogni ente rispetto ad alcune variabili considerate rilevanti rispetto ai processi autorizzativi quindi fare dei confronti molto rapidi apprendere dallo strumento e anche dal confronto tra enti e soprattutto condividere conoscenza target principale sono gli enti stessi ma anche con la collettività e anche questo sarà un ulteriore passaggio che metteremo in rete a breve nella slide successiva vedete un esempio bianco di che cos'è un canvas nella nostra accezione sono di fatto tre cerchi concentrici che raggruppano come vi dicevo prima gli aspetti che riteniamo rilevanti in termini di performance degli enti rispetto al tema autorizzazioni e la slide ancora successiva ve ne dà tre esempi compilati compilati significa che il colore determina la la qualità della della funzione nel singolo ente quindi immaginate che ogni palla corrisponda a un ente quindi a un comune se quella funzione è gestita da un singolo comune oppure da un'unione di comuni il colore più caldo determina una peggiore performance quindi il nostro obiettivo è quello di realizzare questi canvas in collaborazione con gli enti e questo è un altro passaggio importante quindi non è l'esperto che va giudica torna a casa e pubblica ma è un processo interattivo che porta a una definizione condivisa che è molto più faticosa rispetto all'approccio che vi dicevo prima del colore di riferimento e l'obiettivo dell'esercizio e quindi del passaggio successivo che trovate nella slide fra due slide ci fermiamo un attimo qui ancora è quello appunto di identificare delle azioni dei piani di miglioramento che contengano delle azioni di miglioramento volte a raffreddare le fette con i colori caldi nella slide successiva avete il link delle istruzioni sull'uso del canvas che abbiamo messo già in rete e quindi funzionale agli enti locali che devono capire come funziona l'esercizio ma anche al cittadino comune che è interessato a capire qual è perché il suo ente ha il 50% di fette che sono rosse rispetto all'ente vicino dove il blu è prevalente e vi dicevo il passaggio successivo e ultimo primo dell'attuazione slide successiva e ultima è il passaggio appunto dal canvas quindi strumento diagnostico al piano di miglioramento che è il piano di azione che esperti ed enti devono realizzare appunto per arrivare a una riduzione delle grandezze che vi dicevo prima quindi di tempi arretrati questo è un esempio se l'interno ha toni caldi e quindi significa che le cose non vanno benissimo il piano si concentrerà su azioni una serie di azioni tra cui quelle che abbiamo sintetizzato in questa slide c'è un'attenzione forte del cittadino rispetto a questo processo abbiamo già delle richieste di accesso civico che ci chiedono di visualizzare i piani di miglioramento di determinati territori quindi anche il piano di miglioramento una volta che sarà condiviso in prima o in primo luogo consolidato e soprattutto recepito in un documento di programmazione del lente verrà reso pubblico quindi il processo è un processo che cerca di in qualche modo tracciare le le tappe queste tappe che vi ho in estrema sintesi illustrato prima di arrivare all'esito finale tutto questo dovrebbe portare appunto a una riduzione a un miglioramento delle performance degli enti che significa tempi ridotti per quei 17 processi e uno smaltimento significativo degli arretrati per per quei processi stessi il sito si arricchisce in parallelo allo sviluppo del progetto quindi non è statico quindi non è a compartimenti stagni identificati dall'inizio ma man mano che il progetto evolve e il kit di miglioramento si arricchisce tutto questo viene riportato anche dentro il sito dentro la parte dedicata alla alla alle pia locali io direi di fermarmi qui e di vedere se ci sono delle domande sono qui sono a disposizione Piera grazie mille non mi sembra che siano arrivate domande ne approfitto semplicemente per fare una riflessione su uno dei tuoi passaggi come giustamente hai detto è faticoso cioè nel senso molto spesso non cioè secondo me si riflette abbastanza sul fatto che ci sono delle probleme amministrazioni che decidono di fare questa cosa non perché hanno un vincolo di legge non perché la devono fare tutti i costi non perché altrimenti appunto arriva la corte dei conti e succede un guaio ma semplicemente perché tengono il modo in cui portano avanti il proprio lavoro e cercano di ragionare appunto in logica di accantabilità e di massimo accesso alle informazioni pubbliche peraltro molto bello che in qualche modo ci dà il gancio per il webinar della prossima settimana rispetto alla rappresentazione grafica come vedete in larghissima parte la volontà di mettere un po' di capire un po' di mettere tutte le condizioni di comprendere porta naturalmente nell'elaborazione di grafici che possono essere afferrati da chiunque possano in qualche modo sciogliere delle eventuali asimmetrie informative tra chi va a leggere queste informazioni e chi le produce perché oggettivamente poi è complicato considerate già noi parliamo noi intendo come pubblica amministrazione parliamo un linguaggio che è molto autoreferenziale molto tecnico un abuso di acronimi abuso di parole usate con accezione molto molto nostra e quindi da questo punto di vista ripeto è molto apprezzabile lo sforzo di ogni pubblica amministrazione nell'andare verso i cittadini anche attraverso iniziative di questo tipo ne approfitto anche per dirvi che come vi accennavo prima non è che proprio i dati del PNRR non si trovassero quello che non c'era è appunto uno sforzo da parte dell'amministrazione centrale nel caso particolare del MEF che è la governance di tutto il processo nel omologare come diciamo prima in realtà delle volte trovare informazioni spezzettate in tanti punti le informazioni ci sono però poi andarle a raccogliere farle diventare significative poterle confrontare poterle metterci mano oggettivamente è un lavoro immane perché devi andare a recuperare ogni singola goccia finché non hai fatto il secchio e a quel punto invece averle semplicemente aggregate cioè avere un dump del DB centrale che raccoglie tutte queste informazioni e mette a disposizione di tutti in un formato armonico rispetto alle informazioni di portata nazionale che dal nazionale va al singolo comune è veramente prezioso Piero ancora grazie mille grazie mille alla regione Emilia grazie mille a Michele a tutte a Stefania a tutte le colleghe della regione Emilia Romagna ci hanno aiutato a tirare su questi webinar grazie Angela grazie Andrea grazie Irene che è stata in staff con noi a questo punto come vi dicevo prima non dovete fare nient'altro perché avete avuto modo di ascoltarci oggi che guardare la mail mercoledì prossimo e accedere all'ultima aula che concluderà questo ciclo di webinar mi auguro sia andando bene vi auguro continuare a raccontarvi cose interessanti dai commenti mi sembra molto bene grazie Andrea grazie a tutti Piero ancora una volta grazie un saluto a tutti buona giornata alla prossima settimana ciao a tutti grazie ancora a voi ciao 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 ciao